ciao ben trovati sul mio canale youtube vediamoci insieme ora questo nuovo video allora eccoci qua ho trovato questa farina in un negozio macinata grani antichi italiani macinata a pietra e dentro c'è il farro farina di grano tenero verna frassineto gentil rosso e grano duro e senatore cappelli quindi per prima cosa mi metto la farina in autolisi e la lascio all'incisca 30 minuti e dopo di che è passato il tempo ci aggiungo il polish il polish l'ho preparato questa mattina e quindi l'ho lasciato all'incirca 5 6 ore lievitazione a temperatura ambiente una volta pronto era pieno di bollicine scusate dimenticato di fare la foto e quindi l'aggiungo aggiungo questi 200 grammi di polish e mano a mano finisco di mettere l'acqua mentre giro inizio prima a una velocità bassa e vedete l'acqua ne metto un pochina e l'ultima proprio la metto goccia a goccia così mi regolo per vedere quanta acqua assorbe la farina calcoliamo che anche il polish era molto idratato quindi anche se metto che so il 70 per cento poi calcolando l'idratazione del polish sicuramente siamo intorno ai 75 75 per cento di idratazione giro fino a portare all'incordatura poi ho messo dentro una ciotola oliata e faccio dei giri di piega in ciotola direttamente in ciotola così vedete ancora molto è molto morbido però è bello setoso infatti i giri poi lo copro e lo lascio a temperatura ambiente fino a che non aumenta di volume non dico che raddoppi però insomma deve aumentare di volume 4 5 ore possono bastare bene allora eccoci qua quindi sono con questi giorni sono arrivata al pomeriggio al tardo pomeriggio adesso giro l'impasto sul piano di lavoro ho dato una spolverata di farina giusto una spolverata e adesso faccio i soliti giri di pieghe prima della formatura quindi farò tre giri di pieghe con 20 minuti anche 30 di riposo tra un giro e l'altro quindi avete visto sul dopo aver impastato i giri di pieghe di pieghe di pieghe sono soltanto uno praticamente magari facendo diversi giri poi lasciato a lievitare questo perché qualcuno mi ha chiesto ma li fai prima li fai dopo si fanno due volte praticamente questi però sono i tre finali tre giri delle volte ne faccio anche due come vedete l'impasto è morbidissimo ancora leggermente appiccicoso ma queste sono naturalmente i tipi di farina che ho cioè i tipi di farina il mix di farina che ho usato non avevo mai usato questo questa farina della spadonia comunque l'ho vista e ho voluto provarla non è male anche se rimane un pochino forse ho usato troppa acqua perché poi dipende molto dalle farine l'idratazione che usate scusatemi lo smalto ma vi ho già detto che la mia nipotina sta si sta esercitando praticamente sulle mie mani e quindi mi fa spesso le unghie che devo fare insomma comunque gel non è che rilascia poi con i guanti non sono proprio capace a lavorare ci ho provato ma no l'impasto devo devo sentirlo con le mani ok quindi passato passato il tempo dopo l'ultimo giro adesso vado a formare un filone allargo l'impasto e procedo per la formatura in questo modo bene o male i passaggi per il pane sono sempre gli stessi quasi almeno più o meno quindi chi mi segue li conosce già qui ho voluto usare un prefermento un polish e vediamo quello che esce fuori metto come al solito nel cestino dove ho messo la semola con la chiusura verso in alto verso l'alto adesso sono arrivata la sera questo pane lo farò domani in mattina quindi con i tempi ho finito di formare la sera copro tutto per benino e lo metterò in frigo perché le temperature si sono alzate quindi non possiamo lasciarlo a temperatura ambiente perché andrebbe oltre infilo il cestino coperto con il panno sopra dentro una borsa e lo lascio fino al mattino eccolo qua l'ho tirato fuori lo tengo fuori giusto il tempo per portare il forno a temperatura 250 e poi procedo come il mio è il mio solito fare voi fate come volete naturalmente ho preparato la pala una leggera spolverata di semola e poi lo giro sopra quindi in frigo diciamo che c'è stato in circa sette ore il frigo rallenta la lievitazione quindi di mezza la di mezza quindi è come se fosse stato altre che so tre quattro ore a temperatura ambiente bene è ancora bello gonfio come vedete quindi al punto giusto per infornare è ancora freddo perché il tempo di scaldare il forno è passata una mezz'ora presso a poco mezz'ora 40 minuti ci faccio un taglio dei disegnini giusto giusto per veloci non sono molto brava però li faccio quasi sempre ok il mio forno l'ho impostato con due spruzzi di vapore se non avete il vapore mettete un pentolino oppure date due spruzzi con lo spruzzino all'inizio quando infornate dopo 5 e dopo 5 minuti eccolo qua vedete c'è lo spruzzo pronto poi spingo lo faccio manuale ebbene e qui comincia a crescere vedete dopo 15 20 minuti è già scoppiato quindi l'aspetto si presenta molto molto bene sono 50 minuti di cottura a scalare presso a poco e qui questo lo spiffero vedete gli ultimi 10 10 15 minuti di cottura ho lasciato il forno e lo sportello semi aperto eccolo qua molto bello direi poi vediamo l'interno il profumo anche buono è bello croccante sentite si sente anche il rumorino sono riuscito a farvelo sentire il canto del pane adesso per per tagliarlo però dobbiamo aspettare un pochino è un'oretta almeno bene andiamo a tagliare così vediamo subito all'interno com'è eccolo qua guardate io direi che bellino no molto bello sì mi piace bene amici io vi ringrazio della visione ci vediamo prossimamente per un altro video ciao a tutti e buona giornata ciao 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 Grazie a tutti